E' una strada difficoltà per te oggi? Sì, molto difficoltà, soprattutto la stessa scoperta all'interno della città. È tutto sulle nostre stranze mentali e non le mie leggi oggi. Ho dovuto guardare Wooden 4.2, una ragazza di Safi, e io stavo seguendo oggi. E Elena Berlato è la seconda in la classificazione spaziale di Young. E per te? Sì, sì, lei è solo dietro di 46 secondi, ma è molto forte nella scoperta. E' sempre guardata per lei. Quale giro per te, al fine di questa tour, è un target per te? Sì, sicuramente, è quello che voglio. Grazie. Giudy, hai la tua opinione su questa scoperta? Sì, non era davvero buona per noi, perché è una Häuslava. E poi? Sì, ha raggiunto secondi. Sì, ha raggiunto un giro verde per te? È il terreno finale per questa tour? No, il terreno finale è di vincere la tour. E se abbiamo ottenuto un giro verde, è molto bello. Ma il giro è un po' più bello. Hai la tua opinione su oggi? Sì, abbiamo raccontato molto bene come squadra, ma il risultato potrebbe essere un po' meglio. Grazie. 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 Grazie.